I consiglieri di Olevano Soltusciano con il capogruppo di Olevano Viva, Michele Ciriberti, dei consiglieri Giuseppina Pastorino e Giuseppina Ferro, a seguito delle numerose segnalazioni di cittadini e studenti olevanesi delle pericolose e precarie condizioni della quasi totalità delle pensiline e delle fermate degli autobus, interrogano l'amministrazione del sindaco Volzone. I consiglieri chiedono di sapere quali azioni concrete l'ente competente vuole mettere in campo per garantire la pubblica e privata incolumità. A tal fine suggeriscono di apporre nel redigendo bilancio comunale un apposito fondo congruo alla sostituzione di tutte le pensiline pericolanti.